Allora intanto dovremmo rispondergli che non è presente perché si dava per scontato e questo è stato visto come sono date le cose è stato un errore ma perché i nostri costituzionalisti danno per scontato che tutti sapevano che questa costituzione era nata dalla resistenza, era nata dalla lotta partigiana era nata da chi lottava per liberare il nostro paese e poi dico la verità, a me di la Russia non me ne frega, non dico la parolaccia perché non vanno detto non è con la Russia che dobbiamo discutere ma dobbiamo discutere con tutto quel popolo che sa che la Russia ha già risposto la storia a lui e anche a tanti altri che lo seguono la storia ha già detto che cos'è stato il fascismo, la storia ha già detto cos'è stata la liberazione del nostro paese la storia ha già detto che non c'è confusione da fare e c'è chi ha lottato e c'è chi invece ancora oggi pretende di far tornare indietro la storia, questo è quello che, ma non è la Russia è che noi dobbiamo lottare tutti quanti, impegnarci perché questi qua devono finire alla svelta perché non hanno il diritto per quello che è stata la storia del nostro paese e non solo di Bologna di poter essere lì nel posto che sono, la democrazia è un'acqua importante, non è stato un colpo noi dobbiamo rispondergli dicendogli che se ne devono andare il più presto possibile